Adam è fiero di essere proprietario di alberi. Si preoccupa per una bella quercia, la quale è stata colpita da un fungo patogeno. Sarebbe una perdita dolorosa se quest'albero morisse, ma Mycosolutions offre una soluzione garantita, biologica e fatta su misura. Un fungo coltivato come antagonista, che è in grado di eliminare il fungo patogeno. Questo metodo naturale e amico dell'ambiente è stato sviluppato attraverso un lungo lavoro di ricerca. Che cosa fa Adam per trovare un rimedio? Prima compila il formulario online e aggiunge le foto dell'albero e del fungo. Quindi, prende un campione del fungo o del legno colpito e spedisce tutto direttamente al laboratorio di Mycosolutions. Nel laboratorio, le prove saranno analizzate immediatamente. Dopo l'identificazione della specie attraverso il DNA, un appropriato fungo antagonista verrà identificato e coltivato per 4-6 settimane. Il prodotto fatto su misura sarà consegnato insieme al rapporto e alle istruzioni d'applicazione. Adesso Adam può trattare l'albero colpito dissolvendo il prodotto nell'acqua e distribuendolo nel suolo circostante oppure può mischiare il prodotto col compost e distribuirlo intorno all'albero. Per far guarire l'albero completamente potrebbero essere necessari ulteriori trattamenti nell'arco di 3-5 anni. Il metodo sviluppato da Mycosolutions combatte il fungo patogeno in modo naturale ed effettivo.